laudentur jesus et maria amici e amiche carissime una santa sera da tutti a chi sta seguendo particolare la diretta bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla storia di maria di magdala secondo gli scritti di maria valtorta siamo giunti nella delicata fase della vita di di maria ma anche di marta e di lazzaro della ormai prossimità alla morte appunto di lazzaro abbiamo visto nelle puntate precedenti affetto da una malattia grave mortale addirittura apparentemente scambiabile con la lebra tanto è vero che erano andati a fare i sopralluoghi maliziosi scrivi e farisei per magari scoprire che il grande lazzaro protetto dei romani amico di gesù era lebroso e quindi aveva occultato questa cosa e quindi sarebbe successo il finimondo se questo fosse stato vero ci siamo appunto lasciati con questo con questo episodio oggi cominceremo con cominceremo forse anche finiremo perché vedo che abbastanza corposo con un nuovo capitoletto intitolato la sorella non sa ubbidire perfettamente qui è evidente che ci si riferisce a santa marta per amore ormai focalizzato che maria di magdala e la sorella di marta e di lazzaro non solo questo secondo gli scritti di maria valtorta ma questo secondo tutta la tradizione della chiesa a partire da san girolamo e non solo che erano un animamente un animamente d'accordo nel dare questa identificazione oggi gli esegeti moderni per non dire modernisti non accettano questa questa identificazione né tanto alcuni neanche che maria di magdala sia la peccatrice di fatto senza nome descritta da il capitolo settimo di luca che appunto riporta l'episodio che abbiamo visto quando per le di magdala va a casa di simone del fariseo si getta piedi di gesù e piange eccetera eccetera no io qui io suggerisco sempre di se uno vuole stare al sicuro di stare al pensiero dei santi padri e questo è uno dei casi in cui una rivelazione privata può appunto essere un po di rimente perché risolve il dilemma chi c'ha ragione la tradizione o i super esperti di oggi che sulla base di nuovi super aggiornatissimi studi affermano altro ecco qui è chiaramente una posizione poi certamente come in tutte le cose sta a noi studiare documentarci verificare e vedere quale ipotesi ci appare maggiormente convincente comincio la lettura del nuovo paragrafo mi trovo ancora nella casa di lanzaro e vedo che marta e maria escono nel giardino accompagnando un uomo piuttosto anziano molto dignitoso nell'aspetto e direi non ebreo perché ha il volto completamente rasato come lo hanno i romani allontanate che sono un poco dalla casa maria gli chiede ebbene nicomede che ci dici di nostro fratello noi lo vediamo molto malato parla l'uomo apre le braccia con un gesto di commiserazione e di constatazione dell'inluttabilità del fatto e dice fermandosi è molto malato io non vi ho mai ingannate sin dai primi tempi che l'ho preso in cura ho tentato di tutto voi lo sapete ma non è servito ho anche sperato sì ho sperato che almeno potesse vivere reagendo all'estenuazione della malattia con il buon nutrimento e i cordiali che gli preparavo ho tentato anche con veleni atti a preservare il sangue dalla corruzione e a sostenere le forze secondo le vecchie scuole dei grandi maestri della medicina ma il male è più forte dei mezzi per curare il male sono come corrosioni queste malattie distruggono e quando appaiono all'esterno l'interno delle ossa ne è già invaso e come la linfa in un albero dal limo si alza alla vetta così qui dal piede la malattia si è estesa a tutto il corpo ma le gambe malate quelle sole gemme marta sì ma la febbre distrugge laddove voi non pensate esservi che sanità guardate questo ramicello caduto da quell'albero pare tarlato qua presso la frattura ma ecco lo sbriciola fra le dita vedete sotto la scorza ancora liscia e la carie sino in cima dove ancora sembra esservi vita perché vi sono ancora delle foglioline lazzaro ormai è morente povere sorelle il dio dei vostri padri e gli dei e semi dei della nostra medicina nulla hanno potuto fare o voluto fare parlo del vostro dio e perciò si prevede ormai prossimo la morte anche per l'aumento della febbre sintomo della corruzione entrata nel sangue per i morti disordinati del cuore e per la mancanza di stimoli e reazioni nel malato e in tutti i suoi organi voi vedete non si nutre più non ritiene il poco che prende e non assimila ciò che ritiene è la fine e credete ad un medico che è riconoscente a voi ricordando teofilo la cosa più da desiderarsi ormai è la morte sono mali tremendi da migliaia di anni distruggono l'uomo e l'uomo non riesce a distruggere loro soltanto gli dei potrebbero se si arresta le guarda sfregandosi con le dita il mento rasato pensa poi dice perché non chiamate il galileo è vostro amico egli può perché tutto egli può io ho controllato persone che erano condannate e che sono guarite una forza strana esce da lui un fluido misterioso che rianima e raduna le disperse reazioni e impone loro di voler guarire non so so che l'ho seguito anche stando mescolato nella folla e ho visto cose meravigliose chiamatelo io sono un gentile ma onoro il taumaturgo misterioso del vostro popolo e sarei felice se egli potesse ciò che io non ho potuto egli è dio nicomede perciò può la forza che tu chiami fluido è il suo volere di dio dice maria non derido la vostra fede anzi la sprono a crescere sino all'impossibile del resto si legge che gli dei sono scesi sulla terra qualche volta io non ci avevo creduto mai ma coscienza e coscienza di uomo e di medico devo dire che così è perché il galileo opera guarigioni che solo un dio può operare non un dio nicomede il vero dio insiste maria e va bene come vuoi tu e io lo crederò e diventerò suo seguace se vedrò che il lazaro risorge perché ormai più che di guarigione di resurrezione dopo parlare chiamatelo dunque con urgenza perché se stolto non sono divenuto al massimo entro il terzo tramonto da questo egli morrà ho detto al massimo potrebbe essere anche prima ormai o potessimo ma non sappiamo dove sia dice marta io lo so me lo ha detto un suo discepolo che andava a raggiungerlo accompagnandogli dei malati e due erano dei miei è oltre il giordano presso il guado così ha detto voi forse sapete meglio il luogo a in casa di salomon certo dice maria lontano molto no nicomede e allora mandate subito un servo a dirgli che venga io più tardi ritorno e resto qui per vedere la sua azione sul lazaro salve domine e fatevi cuore a vicenda le inchina e se ne va verso l'uscita laddove un servo lo attende per tenergli il cavallo e aprirgli il cancello che facciamo maria chiede marta dopo aver visto partire il medico ubbidiamo al maestro egli ha detto di mandarlo a chiamare dopo la morte di lazaro e noi lo faremo ma morto che sia che giova avere più qui il maestro per il nostro cuore si sarà utile ma per lazaro io mando un servo a chiamarlo no tu distruggeresti il miracolo egli ha detto di saper sperare e credere contro ogni realtà contraria e se lo faremo noi avremo il miracolo ne sono sicura se non lo sapremo fare dio ci lascerà con la nostra presunzione di voler fare meglio di lui e non ci concederà nulla ma non lo vedi quanto soffre lazaro non senti come nei momenti in cui ha in sé desidera il maestro non hai cuore tuo a volergli negare l'ultima gioia al povero fratello nostro povero fratello nostro povero fratello nostro fra poco non avremo più fratello più madre più madre no più padre più madre più fratello la casa distrutta e noi sole come due palmi in un deserto viene presa da una crisi di dolore direi anche da una crisi di nervi tutta orientale e si agita percuotendosi il viso spettinandosi i capelli Maria l'afferra le impone taci taci ti dico egli può sentire io lo amo più e meglio di te e so dominarmi tu sembri una femmina malata taci dico non è con queste smanie che si cambiano le sorti e neppure che si commuovono i cuori se lo fai per commuovere il mio ti sbagli pensalo bene il mio si schianta nell'ubbidienza ma resiste in essa Marta dominata dalla forza della sorella e dalle sue parole si calma alquanto ma nel suo dolore più calmo ora geme invocando la madre mamma oh mamma mamma mia consolami più pace in me da quando tu sei morta se fossi qui madre se i dolori non ti avessero uccisa se ci fossi ci guideresti e noi ti ubbidiremmo per il bene di tutti Maria muta di colore e senza fare del rumore piange con un volto angosciato e torcendosi le mani senza parlare Marta la guarda e dice nostra madre quando fu per morire mi fece promettere che sarei stata una madre per Lanzaro se ella fosse qui ubbidirebbe al maestro perché era una donna giusta inutilmente cerchi di commuovermi dimmi pure che io sono stata l'assassina di mia madre per i dolori che le ho dato ti dirò hai ragione ma se vuoi farmi dire che hai ragione a volere il maestro io ti dico no e sempre dirò no e sono certa che dal seno di Abramo ella mi approva e benedice andiamo in casa più nulla più nulla geme Marta tutto tutto devi dire in verità tu ascolti il maestro e sembri attenta mentre egli parla ma poi non ti ricordi ciò che egli dice non ha egli sempre detto che amare e ubbidire ci fa figli di Dio ed eredi del regno e allora come puoi dire che rimarremo senza nulla più se avremo Dio e possederemo il regno per la nostra fedeltà o che in verità bisogna essere assolute come io lo fui nel male anche per poter essere e sapere e volere essere assolute nel bene nell'ubbidienza nella speranza nella fede nell'amore tu permetti che i giudei te ridano e facciano insinuazione sul maestro li hai sentiti ieri l'altro e pensi ancora al gracchiare di quelle cornacchie allo squittio di quegli avvoltoi ma lasciali sputare ciò che hanno dentro ma che ti importa del mondo che è il mondo rispetto a Dio guarda meno di questo lurido Moscone intirizzito o avvelenato dall'aver succhiato suzzure che io calpesto così e dà un energico colpo di tallone ad un tardo tafano che cammina lentamente sulla ghiaia del viale poi prende Marta per un braccio dicendo su, vieni in casa e ma facciamoglielo almeno sapere al maestro continua Marta ma andammoglielo a dire che è morente senza dirgli di più come avesse bisogno di saperlo da noi no ho detto è inutile egli ha detto quando sarà morto fatemelo sapere e lo faremo non prima di allora nessuno nessuno ha pietà del mio dolore tu meno di tutti e smettila di piangere così non lo posso sopportare nel suo dolore si morde le labbra per dare forza alla sorella e non piangere e sapore Marcella corre fuori dalla casa seguita da Massimino Marta Maria correte Lazzaro sta male non risponde più le due sorelle corrono via rapide entrando in casa e dopo poco si sente la voce forte di Maria dare ordine per i soccorsi del caso e si vedono correre servi con cordiali e catini fumanti d'acqua e bollenti e si sentono bisbigli e si vedono gesti di dolore subentra pian piano la calma dopo tanta agitazione si vedono i servi per lottare fra loro meno agitati ma con atti di grande sconforto a punteggiatura del loro dire chi scuote il capo chi lo alza al cielo allargando le braccia come per dire così è chi piange e chi ancora vuole sperare in un miracolo ecco Marta di nuovo pallida come una morta si guarda dietro alle spalle per vedere se è seguita guarda i servi che le si stringono intorno ansiosi torna a guardare se dalla casa esce qualcuno a seguirla poi dice ad un servo tu vieni con me il servo si stacca dal gruppo e la segue verso la pergola dei gelsomini e dentro la stessa Marta parla sempre tenendo d'occhio la casa che si può vedere attraverso il folto intreccio dei rami ascolta bene quando tutti i servi saranno rientrati e io darò loro ordini perché siano occupati nella casa tu andrai alle scuderie prenderai un cavallo dei più rapidi lo sellerai se per caso qualcuno ti vede di che vai per il medico non menti tu e non ti insegno a mentire io perché veramente ti mando dal medico benedetto prendi con te biata per la bestia e cibo per te e questa borsa per tutto quanto ti possa occorrere esci dal piccolo cancello e passando per i campi arati che non danno rumore sotto lo zoccolo ti allontani dalla casa poi prendi la via di Gerico e galoppi senza fermarti mai neppure a notte hai capito? senza fermarti mai la luna novella ti illuminerà se viene il buio mentre ancora galoppi pensa che la vita del tuo padrone è nelle tue mani e nella tua sveltezza mi fido di te padrona io ti servirò come uno schiavo fedele vai al guado di Betabara passi e vai al paese oltre Betania ed oltre Giordano sai dove in principio battezzavo Giovanni? lo so ci andai anche io a purificarmi in quel paese c'è il maestro tutti ti indicarono la casa dove ho ospitato ma se tu in luogo della via maestra segui le sponde del fiume è meglio sei meno visto e trovi da te la casa è la prima dell'unica via del paesello che va dalla campagna al fiume non ti puoi sbagliare una casa bassa senza terrazzo né camera alta con l'orto che si trova venendo dal fiume prima della casa un orto chiuso da un cancelletto di legno e una siepe di spinalve credo una siepe insomma hai capito? ripeti il servo ripete pazientemente va bene chiedi di parlare con lui con lui solo e gli dici che le tue padrone ti mandano a dirgli che Lazzaro è molto malato che sta per morire che noi non resistiamo più che egli lo vuole e che venga subito subito per pietà hai capito bene? ho capito padrone e dopo torna subito indietro di modo che nessuno noti molto la tua assenza prendi un fanale con te per le ore buie va corri galoppa stronca il cavallo ma torna presto con la risposta del maestro lo farò padrone va va vedi sono già tutti rientrati in casa va subito nessuno ti vedrà fare i preparativi io stessa ti porterò il cibo va te lo metterò alla soglia del piccolo cancello va e Dio sia con te va lo spingi ansiosa e poi corre in casa rapida e guardinga e dopo poco sguscia fuori da una porta secondaria sul lato sud con un piccolo sacco fra le mani rasenta una siepe fino alla prima apertura svolta scompare allora ho preferito leggere fino alla fine ci sono due tre passaggi a mio avviso abbastanza salienti da riprendere da commentare la prima parte di questo brano era questo dialogo con questo medico pagano amico del padre di Marta e Maria come si capisce e di Lazzaro come si capisce bene dal dialogo il leggendario Teofilo leggendario e anche oggi diremmo milionario padre di Lazzaro Maria e Marta abbiamo visto gli interventi di di Maria di Magdala a evidenziare che egli non è un dio ma egli è il vero dio è sempre molto bello vedere e constatare la la forza la profondità la schiettezza della fede di Maria noi dal canto nostro chiediamoci sempre oi nessun dubbio che Gesù è Dio eh mi raccomando il cuore della nostra fede è questo San Paolo dice nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo e vedete anche la differenza cioè su questo la fede di Marta in quel momento Marta ricordiamo sempre che è santa quindi non dungi da noi mancare di rispetto però nel prosieguo del dialogo si capisce bene che Marta dice ma dobbiamo informarlo che sta per morire perché sperava che venisse e Maria dice ma dobbiamo informarlo ma tu pensi che non lo sappia e poi c'è il cuore del del brano che si snoda attraverso la consegna data dal Maestro un'obbedienza durissima e la volontà di Maria di Magdala di essere ad essa fedele proprio incondizionatamente e invece come si dimostra anche dalla fine del brano nonostante come dire tutti gli sforzi di Maria di Magdala la trasgressione di Marta e attenzione che quando l'ubbedienza viene dal Maestro in persona trasgredire è tanta roba quindi un uomo per quanto possa essere un rappresentante del Signore può dare degli ordini oggettivamente sbagliati quindi ci si può prendere la responsabilità in coscienza quando la coscienza parla in un certo modo di come dire dire la mia coscienza dice altro purché sia debitamente formata e rettamente informata e altrimenti no però qui ha parlato il Maestro in persona e la prima cosa che fa Maria spiega tu distruggeresti il miracolo egli ha detto di saper sperare e credere contro ogni realtà contraria se non lo sapremo fare Dio ci lascerà con la nostra presunzione questo è un punto fondamentale di voler fare meglio di Lui e non ci concederà nulla ecco attenzione alla presunzione di voler fare meglio di Lui pericolo noi possiamo applicare questa cosa qui sarà un'obbedienza perentoria data da Gesù la tentazione di voler fare meglio di Dio per esempio quando magari per ottenere un fine buono si usano mezzi non buoni magari pure in presenza di un'impellenza di un problema enorme se ci sono se c'è la possibilità di provare ad intercettare e affrontare il problema enorme con mezzi leciti bene altrimenti si deve desistere perché nessuno di noi può può ne deve mai pensare di poter fare meglio di Dio abbiamo anche visto un'altra manifestazione di imperfezioni in Marta le reazioni disordinate estreme poi tra l'altro perché giustamente Maria Valtorta chiama una crisi di nervi tutt'orientale che sapete che i popoli orientali sono estremi nelle nelle reazioni fanno un po' di sceneggiate tanto e giustamente Maria dice non è con queste smanie che si cambiano le sorti e neppure che si commuovono i cuori sembri una femmina malata ecco questa è la compostezza che si deve avere nelle nostre reazioni non esiste nessuna situazione per quanto estrema che giustifichi reazioni scomposte vogliamo fare un esempio facciamo un esempio proprio estremo Gesù durante la passione come dice il profeta Isaia non apri bocca come un agnello condotto al macello ma non solo per questo come ci immaginiamo Gesù mentre stava tra i tormenti forse gridava come un forse nato sicuramente no non che non soffrisse tantissimo ma cercava e aveva anche questa attenzione sicuramente con uno sforzo evidentemente sovrumano di limitare al minimo indispensabile gli inevitabili sfoghi del dolore atroce quindi Maria Valtorta nota durante la passione che si sentono dei gemiti come soffocati no perché Gesù ha conservato la sua dignità estrema anche durante la passione noi non possiamo non dobbiamo mai lasciarci andare a manifestazioni appunto sconvenienti scomposte indegne di noi esseri umani fa parte anche questo di quella bellissima virtù che è la modestia nei gesti e negli atteggiamenti del corpo evidenziava San Tommaso d'Aquino è più importante di quanto pensiamo anche per esempio nel nostro modo di parlare no di gesticolare un un minimo di articolazione dei gesti quando si parla anche in certi contesti no può essere ci può stare un minimo la dignità e la compostezza della nostra persona dei nostri gesti e delle nostre reazioni io sono un povero prete quindi celebre funerali si vedono a volte durante i funerali delle scene che non si possono vedere cioè un figlio di Dio non è che fa la festa se muore il fratello la sorella da il padre la madre un figlio questo non è un atteggiamento da figlio di Dio questo è un atteggiamento da malato mentale ma a seconda del grado di fede c'è chi esprime un pochino di dolore quindi gli escono le lacrime dagli occhi si vede il volto sofferente e fino a qui si può pure stare fino a quando si vedono dei volti sofferenti ma distesi e addirittura si possono avere dei volti sofferenti ma sereni quelli in cui la fede teologale è più forte cioè quelli che sono sicuri che con la morte la vita non è tolta ma trasformata quindi c'è un po' di dolore che è ovvio ci sta l'ha vissuto tutti l'hanno vissuto negli scritti di Maria Valtorta quando si vede la morte di San Giuseppe si vede chiaramente che Gesù e Maria hanno sofferto immensamente per questa cosa mica erano contenti ma mai lasciandosi andare alle azioni scomposte mai evidentemente no? vabbè meno che mai insomma cioè è quasi è ovvio il retorico insomma dire così no? questa è un'altra cosa molto importante poi c'è un altro passaggio anche questo un altro segno di imperfezione è un'altra cosa che non dobbiamo fare mai e dinanzi alla quale di nuovo Maria reagisce alla grande proprio da chapeau come dice se ci fosse nostra madre ecco qui invoca l'argomento per per persuadere la la sorella invoca l'argomento in parte affettivo ma in parte anche un po' come dire invasivo non saprei come definirlo no? infatti subito Maria di Magdala che farebbe nostra madre se qui mi ha detto che è morta lei dove fare la madre Lazzaro che farebbe ubbidirebbe al maestro ribatte subito Maria inutilmente cerchi di colmovermi appunto utilizzando l'argomento dice dimmi pure che io sono stata l'assassina di mia madre per i dolori che le ho dato ti dirò hai ragione ed è anche la forza che sta imparando Maria di Magdala non cedere alle provocazioni quelle più terribili quelle che tendono a stimolare il senso di colpa o il ricatto psicologico a volte sono quelle che ci fanno fare le più grandi stupidaggini della nostra vita e fa parte del processo di santificazione e anche imparare a non cedere a questi a queste debolezze questo è un punto molto importante questo qui vedete anche come Maria di Magdala non cede a un'altra debolezza che è quella del cuore tenero ma sta poveraccia sta disperata ma si va ma andiamo a chiamare il suo maestro insomma perché tanto io non lo farei ma sta povera disgraziata sta sta rovinata quindi il maestro capirà non capisce non facciamo mai questi discorsi non illudiamoci dietro questi discorsi ecco poi un'altra cosa un'altra tentazione un altro espediente ecco dell'umanità di Marta fare la vittima fare la vittima nel senso di cadere in disperazione e quindi provocare di nuovo in un'altra forma sempre più raffinata la sensibilità della sorella ah non c'è più nulla ah io ah io qua c'avevo una madre c'avevo il padre c'avevo il frate adesso non c'è più nulla più nulla più nulla e Maria risponde ma tutto devi dire e le dice guarda che tu ascolti sempre il maestro sembri tanto attenta ma poi non ti ricordi ciò che gli dici che cosa ha detto lui amare e ubbidire ci fa figli ed eredi del suo regno e allora tu dici che non c'è più nulla che vuoi di più che essere figli eredi del suo regno e poi dice il suo grande vangelo vedete ecco questa è come dire l'arma in più ovviamente per accidents spiego che cosa intendo con per accidents che hanno i peccatori convertiti i grandi peccatori convertiti non è parere mia che c'è quest'arma è l'unica cosa positiva che ci si porta da una vita di grossi peccati riprendo e cito quello che lei stessa ha detto in verità bisogna essere assolute come io lo fui nel male quando una persona è stata un gran peccatore per essere un gran peccatore tu devi andare a ci vuole un po' di coraggio un bel po' perché tu devi andare contro non soltanto la legge di Dio mettendotela sotto i piedi ma devi andare anche continuamente contro la voce della tua coscienza che ti rimprovera in continuazione che ti ammonisce prima che ne fai una dopo che l'hai fatta ti manda il rimorso è un peccatore non campa bene anche per questo nel senso deve essere bello ruspante per poter gestire queste cose risoluto allora te lo dico io che cosa devi fare tu devi essere tanto forte e risoluta nel bene come io lo fui nel male ti lo ricordi? ho fatto morire di crepa cuore mia madre più risoluta di così e adesso muoio di crepa cuore io piuttosto che spostarmi di un millimetro da quello che il maestro ha detto quindi essere assoluto nel bene nell'ubbidienza nella speranza nella fede e nell'amore ovviamente anche chi non ha avuto in sorte cosa meglio quella di essere un grande peccatore amici mica chi non è assoluto assoluto assomiglia al risoluto qual è l'unica cosa che teme il demonio? il diavolo non c'ha paura di niente e di nessuno san giovanni bosco dice che il diavolo c'ha paura della gente allegra ma questo è una conseguenza perché come si fa ad essere allegri? non è che un allegro non è che il diavolo c'ha paura dei buffoni o di quelli che ridono 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 come tanti ebidi i romani dicevano che risus abbundati in ore stultorum da dove viene l'allegria? l'allegria viene da chi vive in amicizia con Dio come fa a vivere in amicizia con Dio? tu devi essere fermo devi essere risoluto non scendere a compromessi col male fermo e quindi qual è l'unica cosa di cui c'ha paura il diavolo? della gente allegra è una conseguenza ma di chi c'ha paura come dicono tanti maestri di spirito di una volontà risoluta risoluta nel bene e non diamola mai per scontata nella nostra vita ci sono dei passaggi dolorosi l'ho detto tante volte non è doloroso soltanto il passaggio alla conversione del peccatore convertito che è un passaggio dolorosissimo cioè prendere coscienza di tanto male fatto e quindi vivere quel dolore cioè non l'avessi mai fatto ci avessi pensato prima è terribile questa cosa poi il dolore del doverlo confessare bene che è un dolore un'umiliazione enorme e poi ancora il dovere di fare penitenza doverlo riparare spiare ce ne vuole ci vuole però anche una volontà risoluta anche per mettere mani ad altri problemi della nostra anima perché magari ci fosse solo il problema del peccato magari c'è il problema dell'errore quando noi abbiamo combinato qualche guaio perché ci siamo sbagliati sbagliare non è la stessa cosa che peccare è più grave peccare che sbagliare però a volte è più umiliante sbagliare che peccare perché lo sbaglio quando te ne accorgi tu ti porti dietro l'umiliazione il rammarico di dire ma se ci avessi fatto maggiore attenzione se ci avessi pensato prima meglio questa cosa non sarebbe successa anime risolute guardate c'è sempre la scappatoia che la percorrono quasi tutti di dire no 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 non abbiamo questo capitolo perché la nostra anima è un falco è un fulmine anzi viaggia alla velocità della luce capisce subito che se apro questa porta andrò incontro a dei dolori sicuro 100% grossi e siccome io non voglio soffrire no solo che dovremmo ricordare anche in presenza di questo le parole del maestro chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua questo è una croce orca se è una croce ne vogliamo vedere un'altra in cui ci vuole una volontà risoluta questa è ancora peggio fare i conti con la nostra vita fare i conti con le nostre tare psicologiche con le nostre debolezze psicologiche lo dicevo anche questa mattina durante la meditazione le aree dove l'io cieco sta a tassi di invadenza quasi 100% perché queste cose condizionano enormemente il nostro agire e il nostro operare e se tu non le affronti e nessuno le può affrontare se non il diretto interessato fuori dal diretto interessato si possono avere degli aiuti ma i conti con noi stessi possiamo farli soltanto noi se vogliamo ma anche lì la nostra psiche fulmine alla velocità della luce entra subito in pallone perché qui si scoprono proprio gli scheletri nell'armadio qui si scoprono i vasi di Pandora qui tu ti potresti ritrovare che magari per anni hai fatto delle cose addirittura pensando che fossero anche meritorie perché gli occhi di Dio non valevano niente perché sei stato mosso da cattive intenzioni non le hai fatte solo per amore di lui le hai fatte per amore delle creature le hai fatte per amore proprio oh qui si apre un campo e perché hai fatto così perché hai ingenerato quelle situazioni quegli attaccamenti l'identazione di questa mattina quelle mancanze di rettitudine di intenzione quelle idolatrie quei servilismi e qui bisogna essere risoluti bisogna essere risoluti perché chi vuol venire dietro di me Gesù dice rinnega te stesso cioè rinnega te stesso dice io non mi conosco devo soffrire un po' cioè soffrire è una cosa innaturale tutti fuggiamo dalla sofferenza e invece Gesù dice no perché ci sono alcune sofferenze che sono necessarie ma io sono un sacerdote no ma quante volte cioè uno cerca di se non vuole fare San Giovanni Battista San Giovanni Battista è un pubblico dico sempre il privato bisogna fare un po' come Gesù quindi bisogna cercare di addolcire la pillola di usare un po' di anestesia prima di andare col bisturi di usare poi le garze disinfettante la morfina però alcune cose bisogna a un certo punto specialmente bisogna farle bisogna intervenire per forza per il bene della persona anche se la persona non lo capirà e quasi sempre non lo capisce e te ne dice al sacco una sporta e pensa che sei cattivo e ti giudica a destra e a sinistra allora ricordiamoci bene di Maria Di Mar da tutte queste cose esce solo una volontà risoluta guardate io per tanti anni chi mi conosce lo sa faccio un po' una digressione ho fatto le meditazioni sulla divina volontà conoscendo anche un po' questo mondo idea che mi sono fatto facendo un pochino un range è vero che è vero che è un argomento troppo difficile ma che non ci ha capito niente quasi nessuno recentemente sono state sono partiti dei rilievi da parte delle dei vescovi incaricati di esaminare la situazione una notizia che non ho verificato ma sembra confermare addirittura cioè questo sta causando un blocco nella causa di verificazione quale? cioè il fatto che una loro non dicono così lo attribuiscono direttamente agli iscritti io che gli iscritti li conosco dico che non è così ma rientra nell'interpretazione però questa interpretazione è quasi universale un indebolimento fino quasi all'annientamento del libero arbitrio comporterebbe la divina volontà in realtà è l'esatto contrario ma se uno si guarda in giro io mi sono guardato in giro intorno sia gli ambienti dove è praticata sia anche come dire le persone a me vicine che sono entrati in contatto con questo mondo dico ma 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 tutta quella spiritualità sottolinea ed evidenzia il primato della volontà allora il buon San Tommaso D'Aquino diceva che l'intelligenza perché c'era la lotta deve agire deve farlo assoluti nel bene come lo si fu nel male ancora altro argomento di 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 Marta ancora ah però hai visto sono venuti in giudeia e hanno fatto delle insinuazioni sul maestro quindi ma la prende su un altro punto di vista guardate 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 che questo è uno studio psicologico veramente adesso la prendo sull'amore al maestro perché l'eroma tanto il maestro quindi se gli distruggono il maestro insinuano si convince anche Maria di Magda quel grande qui bellissima qui proprio io stretta di mano pensi ancora a gracchiare di quelle cornacchie li chiama così benissimo perché quello sono lo squittio di quegli avvoltoi ma lasciali sputare ciò che hanno dentro il disprezzo del mondo questo è e dei mondani ma quanti cristiani e cristiane si fermano non fanno qualcosa per rispetto umano per paura di essere presi in giro per paura di essere criticati additati diffamati a volte questo è un altro aspetto come si combatte con la volontà pure con la volontà ma che me ne importa a me ma gracchiassero fino al giorno del giudizio ho deciso una cosa davanti a Dio l'ho riconosciuta come buona io la faccio e se hanno da dire e cantassero sputassero quello che hanno dentro ma che mi importa a me del mondo ma che è il mondo rispetto a Dio io vivo sotto gli occhi dell'altissimo non capisco se ne faranno una ragione io se vogliono glielo spiego perché noi siamo sempre pronti dice San Pietro a dare ragione della nostra fede perché stai facendo così io dico ti interessa veramente o vuoi fare polemica perché se ti interessa veramente te lo spiego subito se vuoi fare polemica non ti dico niente pensa pure tutto il male che vuoi e poi l'ultima cosa abbiamo già accennata ma facciamoglielo almeno sapere che Lazzaro sta morendo qui si vede la debolezza anche della fede di Marta già evidenziato come se avesse bisogno di saperlo da noi ma stiamo scherzando quando noi preghiamo non è che noi dobbiamo informare Dio di qualcosa no dobbiamo sollecitarlo eventualmente ad agire sempre secondo la sua volontà Dio non c'ha bisogno di informazioni non c'ha bisogno di gobbi lui sa tutto non dobbiamo mai su questo vacillare lui sa tutto non c'ha bisogno di essere informato siamo noi che dobbiamo essere formati e informati non lui ecco infine la caduta di Marta e quindi l'atto di disobbedienza poi vedremo l'esito di questo atto nei capitoli seguenti chiaramente non anticipo nulla ecco io direi che è il caso si sto vedendo lo scorrere del tempo che ci fermiamo il capitolo seguente sarà un capitolo veramente forte impegnativo doloroso assai e molto edificante però di questo ce ne occuperemo la prossima volta laudentur Iesus et Maria che vi benedica e la Santa Vergine vi protege